Udite, udite, razza detto Ruggero che pare che tra una partita di carta e l'altro faccia l'assessore alla sanità si è ricordato che esiste Messina e lo sapete perché si è ricordato che esiste Messina? Perché uno dei tanti, ma lui in modo principale come paladino Ruggero, paladino della legalità che ora minaccia il sindaco di Messina, che è tutto tremante che non si sa che cosa gli farà se non corregge udite udite l'illegittima ordinanza che ha fatto ieri perché? Perché ci sarebbe il mio tentativo criminale di chiudere da venerdì in poi le attività ritenute essenziali, tra cui i generi alimentari Ruggero Razza, di a tu e la che che ti mandano queste cose che io ieri stesso ho precisato che c'è là un piccolo refuso e che correggeremo perché ci sono refusi e micchiate in quella ordinanza perché vedi, io la domenica, ieri mi sono dovuto occupare di tutte le omissioni dei tuoi uomini e delle porcherie dei tuoi uomini che creano a Messina ma come mai invece non ti occupi di toglierci dalle palle la paia che ci ha portati in zona rossa siete compagni di merenda, siete conniventi siete conniventi e compagni di merenda di natura ovviamente sotto il profilo politico perché ho fatto dal presupposto che non ci possono essere altri tipi di connivenze il fatto sta che la paia vi sta ricattando lo avete chiamato, l'hai chiamato tu l'ha chiamato Musumeci e lo avete pregato ti prego Paoluccio dimettiti che c'è quello stronzo del sindaco di Messina che poi continua a gridare si incazza Paoluccio ti prego dimettiti e Paolo la paia il quale ovviamente ha preso il fuoco con le sue mani gli dice ma tu stai scherzando io mi dimetto dopo tutti i servizi e i servigi che vi ho fatto sempre i servizi politici ed ecco che il buon Razza approfitta per attaccare il sindaco di Messina ancora vi aspettiamo caro Ruggero Razza a venire a Messina a parlare di tutte le porcherie che ha combinato il tuo uomo che ancora è lì col culo appiccicato alla sedia nell'omusumeci tra una cavalcata e l'altra ricordati che a Messina la sanità ci ha ridotto in queste condizioni in due mesi che il tuo uomo ha dimenticato di inserire oltre 3.000 positivi nella banca data e di fare il tracciamento nell'omusumeci tra una cavalcata e l'altra ricordati che la regione si amministra e Ruggero Razza prima di nominare Messina te lo dico con molta onestà devi prima risolvere i danni che hai creato perché se noi oggi siamo con un rapporto di tamponi e contagiati del 35% è grazie proprio agli asini volanti che ci hai consegnato a Messina e ci saranno le altre puntate Ruggero Razza ti aspetto a Messina intanto l'ordinanza certo che sarà sistemata insieme ai vari refusi che ci sono alle minchiate perché ieri la mia domenica l'ho dovuto a dedicare per organizzare i servizi dell'ASP per i quali c'è tale Paolo Lapaglia che è pagato probabilmente quanto il Presidente della Repubblica per fare queste cose invece no non le ha fatte ci ha fatto arrivare nel baratro bene io ora mi piglio anche la responsabilità di questo e dico venghino signori non c'è nessun problema io sono sicuro di quello che devo fare perché in un disastro del genere bisogna purtroppo agire così ma alle 18.30 oggi ne parleremo di questo e di tante altre cose nel frattempo non consento però all'assessore Razza di fare lo sciacallaggio politico anche perché ancora a Razza lo ha lasciato lì e quindi ancora Messina non ha avuto la soddisfazione di avere un commissariamento che deve servire semplicemente a ripristinare quelli che sono i principi di legalità organizzativa nell'Aspo di questo caro Ruggero Razza noi dovremo parlare una volta per tutte per il resto se tu poni questo problema lo sai che fai prendi i tuoi avvocati e impugna l'ordinanza eventualmente ma io già ti sto dicendo come l'avevo detto ieri sera che queste correzioni frutto di refusi perché ieri la giornata è stata pesantissima già era l'ordine del giorno che saranno applicati perché è giusto così ma la sostanza non cambia anzi voi state andando contro quello che è stata la relazione il contenuto della relazione del comitato tecnico scientifico siciliano ti ho chiesto caro Razza di avere la copia e ancora non me le hai mandata ti devi vergognare perché avete pure paura di far circolare quel documento vi dovete vergognare la Sicilia già in zona rossa per colpa vostra perché ormai i posti letto non ce ne sono in terapia intensiva i posti letto non ce ne sono in indigenza ordinaria e la situazione è sfuggita di mano proprio per questa visione anzi non visione della sanità ti ho fatto una richiesta di accesso agli atti caro Razza visto che hai trovato il tempo per mandare un'Ansa un avvertimento al sindaco De Luca trova il tempo di mandarmi su Whatsapp per cortesia pure in via informale la copia integrale della relazione che ha fatto il comitato tecnico scientifico perché è logico che gli altri sindaci ora ti chiedano l'estensione della zona rossa è legittimo perché non si può ipotizzare di tenere chiusa la scuola in un contesto pressorio epidemiologico in questi termini e tu non applichi e non vai ormai ad estendere la zona rossa in tutta la Sicilia solo perché sarebbe la certificazione della tua sconfitta come stato a Messina per molto meno le persone degne di questo nome si dimettono ma le persone degne di questo nome c'è uomini però ovviamente ormai siamo nell'era degli uominicchi ed è qua qua da qua ciao ciao caro razza alla prossima puntata perché non finisce qui grazie a tutti Grazie.